Maggio 1999, il Parma al suo alcello l'Europa League, allora ancora Coppa UEFA, è proprio da allora che una squadra italiana non riesce più a vincere questa competizione e quest'anno la Roma è riuscita ad alzare al cielo l'Europa League. Complimenti alla Roma per questa vittoria, complimenti, avete vinto l'Europa League, sì, va al Fornaro, madonnate, madonnate, Liverpool, Leverkusen, poi ci vogliamo mettere Milan, l'Atalanta, io sto tranquillo, Sto tranquillo, ma a parte tutto, io sto tranquillo e non penso che avete stata facile. Ciao Roma, ciao, domani i sorteggi e vediamo un po' dall'urna cosa uscirà fuori. Non andate avanti, penso lo sapete anche voi, no? Il Liverpool è tutta un'altra squadra, un'altra categoria, avete visto, sono ingiocabili, ragazzi, sono ingiocabili. Se la Roma non prende ora il Liverpool ai quarti, ma lo prende in semifiano in un finale, il risultato, ragazzi, lo sapete, è inutile. Ragazzi, sono marziani, 11 marziani, arso le mani. Roma, 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 eppure per quest'anno mi sa che niente va a tocco. Roma, la Roma, la Roma,